Torna il maltempo e tornano puntuali le mareggiate tra Pescara Sud e Francavilla. C'è anche un esemplare di tartaruga alle nostre spalle, purtroppo morto padovano. Siamo alle solite. Adesso però dobbiamo dire basta. Adesso va detto basta. Basta per tanti motivi. Perché se la regione mette al sistema la progettazione, cioè lo studio, il cosiddetto progetto ancora, poi mette a disponibilità per quanto riguarda anche i finanziamenti. E ci sono finanziamenti ancora dormienti nelle stanze dei comuni e delle regioni. Allora io lancio l'appello alla regione Abruzzo. Dico al presidente Marsiglia, nomini un commissario ad hoc che segue tutte le sfaccettature per la difesa della costa da Martinsicuro a San Salvo. Si devono fare operazioni sull'avanporto di Ortona, parliamo di circa 600.000 metri cubi di sabbia, idoni per quanto riguarda il ripascimento morbido. Ci sono interventi a Pineto, ci sono finanziamenti fermi nel comune di Francavilla, ci sono finanziamenti per Castalbordino. Non posso fare l'elenco. Dico, regione Abruzzo, presidente Marsiglio, siamo nello stato di emergenza, l'erosione è un'emergenza annuale, nomini un commissario ad hoc, tolga tutte le carte che stanno nei comuni dormienti, ci rimette mano e possiamo sicuramente dare una soluzione almeno entro il mese novembre. Per l'emergenza, diciamo agli enti locali e alla regione Abruzzo, l'assessore è competente, che ci possono essere le condizioni, le possibilità per tamponare l'emergenza. Noi vogliamo fare la nostra parte. Noi, dico, la categoria dei balneari vuole fare la propria parte. Noi però non vogliamo avere a che fare con carte, cartucce, autorizzazione. Non ci interessa, non possiamo perdere il tempo dietro le scartoffie, dietro la burocrazia. Grazie.